bella vecchia rapa di Semi Granz e siamo tornati qui con un nuovo video qui sul nostro canale incredibile tu riesci a dire l'entro qui dieci volte si sa che stiamo qui nel nostro canale qui siamo qui sempre qui su youtube perchè tutti quanti siamo qui qua e qua si siamo quindi sul nostro eh vabbè e oggi vogliamo farvi vedere questo quiz perchè abbiamo trovato questo quiz perchè scendi qui pure in quiz e qui in quiz si chiama ma non posso dire la parola equinozio? no devo dire e nozio esatto devi dire itz cioè non di quiz di itz e itz nozio vabbè vai che è sta pregnaccia siamo qui su un itz siamo qui su un itz sempre qui ho detto comunque niente siamo su un quiz dove faremo questo quiz vai si chiama il test o il quiz del tontolone ma se veramente si chiama il tontolone ma che cazzo ha fatto? comunque niente allora qua si dice premi il tasto rosso per cominciare oh quale sarà questo? ok poi che cazzo temo Paolo? eh uno premi uno, due, tre, quattro, cinque uno da quale animale ti scendi? dal coccodrillo si dalla scimmia bene ora premi il coccodrillo ok bene ora la pecorella facile fino adesso premi ora il numero 7 che perde premi il tasto rosso esattamente cinque volte uno due tre quattro cinque è bastardo guarda ma che merda dove aspettava? sta merda ok premi il tasto blu poi il tasto verde ed infine quello rosso blu verde rosso premi i ranocchi da sinistra verso destra si guarda che merda si si che che stronzo no che pezzo di merda aspetta riparti da zero e mo quale devo premere? a sinistra ok premi il cuore più grande bravo è superato il primo livello adesso sappiamo che hai almeno delle speranze premi sul topolino come no? come no scusa ma il topolino era quello su topolino no sul topolino però io inizio avevo detto su si si vai ok premi due volte il tasto blu e poi tre volte quello verde 1 2 1 2 3 basta sbrigati aspetta ancora indietro bravo il cuore premi il quale ha in ordine di grandezza la più grande la più piccolo ta ta no ta 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 che u quando fa la somma dei numeri sulla scremata precedente? 9 che cazzo? ta 3,8,11,14 no no 13 3,8,1 4,8,12 che coglioni aspetta allora 1 12 12 sposto non premere il tasto rosso sbrigati mi sbriga non premerlo 9 su 10 scimpanzè sono dell'idea che tu non sia una schiappa cosa? premi la foto con il gattino della ok premi il tasto rosso esattamente 7 volte 1,2,3,4 ma che merda ma che merda ma che merda mannaggia ho ancora una vita poi devo iniziare alla gattina gattino allora eh no siamo incastonati allora vai 1,2,3 4,5,6,7 adesso premio lo schermo indizio è quello verde premi prima sul nord e poi due volte sul sud nord due volte sul sud ma sei stupido ma che oddio no da capo no bello veloce veloce mi sa che puoi partire direttamente e lo fa il 2 dove ci porta questo viaggio? ma non è uguale a prima però lo so è un posto molto caldo bene ora premi la valigia il tuo cappello facciamo le valigie premi nel giusto ordine occhiali macchina fotografica e pinne occhiali macchina pinne e ora la valigia ok prendi la porta cosa non hai ancora messo in valigia costume e costume maschera e secchiello e secchiello premi il seguente ordine occhiali, pinne, cappello e macchina fotografica occhiali pinne cappello macchina fotografica oh premi il topolino prima di cominciare il viaggio trova i tre errori presenti nell'immagine di destra ah la palla è messa in modo sbagliato no l'immagine di destra e prema a sinistra mortaccio basta io voglio rifar quello di prima senti eh prima sul nord e poi due volte sul sud eh vai nord una volta nord e due sud sta merda però sta andando molto bene sei pronto per il prossimo livello? riparti a zero e indietro non è che due volte sul prossimo livello? ok post premete tutti i rarocchi che guardano da sinistra verso destra che guardano che vuol dire guarda quindi qua questo ah si e questo si basta poi questo e da sinistra verso destra guardano questo e questo e mo? io non premo niente spero che non devo premmere niente non è che è quello verde eh perchè? perchè prima hanno detto che è quello verde qua non va avanti eh dai premi quello verde ah il re degli asini sei nella merda rilassa premi sul risultato di 17 più 8 meno 1 diviso 2 quindi 25 24 12 dovremmi su 12 ok premi cerchio quadrato e triangolo cerchio quadrato triangolo quanto fa? 2 per 3 6 11 premi sul topo elettronico che cazzo il mouse premi quadrato cerchio e triangolo quadrato cerchio triangolo quanto fa? 7 per 8 64 54 54 meno 18 48 36 dovrebbe essere 38 i miei calcoli sono così però vabbè sono giusti cliccando il tasto destro del mouse e che cazzo devo girare cioè eh si non si sa mai premi i topolini dal più piccolo al più grande ah ok ho stato già fatto già sbagliato ta 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 vai questa è una cazzata ta triangolo cerchio quadrato e triangolo triangolo cerchio quadrato e triangolo attenzione leggendo questa frase stai solo perdendo il tempo almeno ora per terminare questo livello premi sul topolino più piccolo eh no quello è questo oddio grande fantozzi e te l'idea che tu sia meno paragonabile ad una scimmietta intelligente premi sul braccio sinistro per proseguire fermo fermo è questo il braccio sinistro perchè il pollice è stato qua che è oh da quale cifra era composta l'immagine da 5 schermata precedente ah da si da 5 si ah infami te lo mettono come 7 però è da 5 premi la giusta sequenza ranocchio coniglio 2 volte scimmia maiale ranocchio vano ranocchio coniglio 2 volte scimmia scimmia maiale perchè c'ho un leone ora ora leone 3 leone poi 3 volte il coniglio 2 volte il maiale e poi l'uccello vai leone leone 2 volte il coniglio 2 volte il maiale 1 eh non c'è il maiale deve aspettare e poi qual'era l'ultima uccello maiale uccello continua con scimmia ranocchio coala ranocchio gufo scimmia non c'è ranocchio Se sta dietro, come cazzo pio? Ok, ranocchio Koala, koala Ranocchio scimmia Ranocchio bufo Premi il tasto rosso Quale di questi animali appare solo una volta? La formiga È vero Come no? Non meglia tartaruga Tartaruga? Fichissimo La principessa ti nomina professionista del reame Ora premi sul diamante quadrato più grande Questo non è quadrato È questo No, no, no Nemmeno questo È questo L'unico quadrato è quello No, ci stanno due, però Questo qua Sì Premi il tasto blu veloce Dai, che merda Cazzo per dire Vai, indietro, c'hanno ancora due vite Vai Aspetta, tu stavo al blu Tutto in bassa sinistra Tocca, sta attento perché c'è stato il colore sbagliato, eh Premi i seguimenti i tasti uno dopo l'altro Tre verde, due blu, tre rosso Tre verde, due blu, tre rosso Tre verde Due blu Tre rosso Premi il quadrato Metti la password e poi premi enter Tu la metti alla password Qual è la password? Che cazzo ne so Premi enter e basta Ma non è che ce l'ha scritta la password Mentre non stavo a premi così La password è A, B, E 23, C Con un compito semplice come l'alfabeto Premi nella giusta sequenza alcune vecchie conoscenze Guarda dopo il bufo, eh Codrillo Poi P Q, R, S, T Eh, P P Aspetta, aspetta Q, R, C Sì, sì, vai R Ok Un genio È finita Davvero Congratazione, ce l'hai fatta? Ah, sì Che bello Ci abbiamo messo 360 secondi Che in realtà sono 20 minuti di registrazione Sì Però ok, dai Ci abbiamo fatto in 360 Sfidiamo voi a fare meno di noi Comunque ragazzi Ricordiamo che siamo qui con questo video Con questo quiz Quindi qui lasciate like Perché qui è il nostro canale Perché qui c'è il quiz Di quiz Quizzone Mamma mia E niente Noi ci becchiamo come sempre al prossimo video Se questo video vi è piaciuto Facciamo il like Ciao Bella Ciao